Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, oggi ulteriore appuntamento con News MotoGP, la rubrica con la quale noi andiamo ad accumulare tutte quelle notizie che escono sul mondo della MotoGP per poterne andare ad analizzare con maggiore precisione e cercando di capire quale potrebbero essere i risvolti di queste notizie. Anche oggi ho raggruppato ben tre notizie che sono uscite nel corso di questa settimana, tre notizie molto interessanti. Una delle tre è addirittura passata in sordina senza la dovuta attenzione. News MotoGP, partiamo con la questione Dani Pedrosa perché grandissima notizia che è uscita in questa settimana. Dani Pedrosa correrà e tornerà appunto a correre nel prossimo Gran Premio, il GP d'Austria dell'8 agosto. Quindi Dani Pedrosa dopo il ritiro a fine stagione 2018, eccolo che due anni dopo ritorna in pista. Una notizia molto importante perché Dani Pedrosa ha ancora tantissimi fan a suo carico, è un pilota molto molto competitivo, ha fatto la storia sicuramente recente della MotoGP e sarà molto interessante rivederlo in pista. KTM che quindi nel Gran Premio di casa porterà ben cinque moto della sua casa di produzione, tre che sono KTM ufficiali e due della KTM Tech Trois e quindi Dani Pedrosa tornerà a correre come wild card. Quindi molto molto interessante questa notizia, dopo andremo ad analizzare nello specifico anche le dichiarazioni dello stesso Dani Pedrosa. Ma la seconda notizia è purtroppo meno felice perché abbiamo avuto ancora a che fare con una cancellazione di un Gran Premio e quindi di un'ulteriore modifica nel calendario di MotoGP. Dorner infatti ha dovuto annunciare la cancellazione nel corso di questa settimana del Gran Premio di Buriram in Thailandia. Quindi c'è un'ulteriore modifica da tenere presente nel calendario di MotoGP. Purtroppo il Covid sta veramente scombussalando i piani non solo della Dorna ma ovviamente di tutti quanti noi. Buriram era il GP della Thailandia ed era back to back con il Gran Premio della Malesia. Quindi abbiamo un ulteriore problema anche per quanto riguarda il Gran Premio della Malesia perché i costi sarebbero troppo elevati solo per quel weekend. Una situazione molto molto complicata e ancora non sappiamo se questo Gran Premio verrà solamente depennato dal calendario oppure verrà sostituito con un ulteriore Gran Premio. La terza notizia che è quella che è passata maggiormente in sordina ed è secondo me una notizia molto molto importante è che Garrett Gerloff, pilota Yamaha della Superbike, ha rinnovato il contratto con la Yamaha. Quindi Garrett Gerloff in questo momento è da depennare nella lista dei possibili nomi alla sostituzione di Maverick Vignales oppure di Valentino Russi. Quindi Garrett Gerloff l'anno prossimo sicuramente non correrà in MotoGP ma sarà uno dei protagonisti della Superbike. Gerloff era, ripeto, uno dei nomi papabili non solo alla sostituzione di Maverick Vignales quindi in Yamaha ufficiale ma anche di Valentino Russi nella Yamaha Petronas. Lui è da depennare e quindi la rosa dei piloti per quanto riguarda Yamaha nel 2022 si restringe, si appunto diminuisce drasticamente il numero di possibili sostituti. Partiamo con calma e partiamo dalla notizia veramente che non ci aspettavamo di venisse ufficiale in questo preciso momento. Dani Pedrosa che tornerà in MotoGP come Wildcard, lui che era il collaudatore della KTM tornerà in pista appunto con la moto ufficiale quindi una grandissima occasione per lo spagnolo. Wildcard, un gran premio di casa per la KTM quindi loro cercheranno ovviamente di massimizzare i risultati molto importante l'obiettivo da portare a casa per Dani Pedrosa perché riguarda appunto i nuovi aggiornamenti che KTM ha deciso di portare per la propria moto quindi è molto molto importante il risultato e la qualità della gara di Dani Pedrosa sarà sicuramente uno dei nomi, uno dei piloti da dare a visualizzare con maggiore attenzione l'8 agosto, gran premio d'Austria che sicuramente sarà molto molto interessante le voci giravano già da un paio di settimane ma come un fulmine al Celseriero non ci aspettavamo l'ufficialità in questa settimana forse l'attendavamo più verso la settimana prossima comunque Dani Pedrosa ufficialmente tornerà in pista con la moto ufficiale ma una moto che è leggermente diversa rispetto a quella degli altri due della KTM ufficiale lui avrà una moto sì comunque ufficiale ma la versione per i collaudatori quindi una versione comunque tester molto depotenziata rispetto agli altri due comunque non è importante per Dani Pedrosa andare a competere con gli altri due piloti ufficiali il suo obiettivo è ovviamente raccogliere quanti più dati possibili perché KTM con lui in pista ha deciso appunto di provare tante tante tanti aggiornamenti che se daranno risultato positivo saranno ufficializzati per gli altri due piloti le dichiarazioni dello spagnolo è stato fantastico prendere parte a questo progetto KTM lui che è collaudatore dal 2019 è passato tanto tempo dall'ultima gara una crescita fantastica con KTM ora ho di nuovo quelle emozioni come un tempo sono veramente veramente gasato da questa grande opportunità dobbiamo provare tante cose è una grandissima occasione confrontarmi anche con la MotoGP moderna e questa è una questione molto molto interessante quella sollevata dallo spagnolo uno dei vecchi piloti della vecchia MotoGP che si confronta con questa MotoGP moderna con questa MotoGP tanto tanto condizionata dalla gestione delle gomme quindi abbiamo un pilota vecchio stampo che si confronta con questa MotoGP attuale molto molto complicata sarà la gara per Dani Pedrosa proviamo a dare qualche numero di Dani Pedrosa anche se è un pilota che non ha bisogno di presentazioni Dani Pedrosa ha 35 anni 3 mondiali vinti 1 in 125 2 in 250 3 mondiali vinti consecutivi 2003, 2004, 2005 quindi veramente una promessa spaventosa Dani Pedrosa 295 gare in tutto 54 vittorie 153 podi è un bottino veramente interessantissimo 4162 punti ulteriore dato veramente interessantissimo 49 pole position 64 giri veloci in gara quindi veramente abbiamo a che fare con un pilota di grandissima grandissima qualità seconda notizia GP della Thailandia ha cancellato quindi Dorna ha dovuto ancora una volta modificare questo calendario il Covid sicuramente è la ragione più principale ovviamente per questa cancellazione di questo appuntamento ormai veramente la situazione Covid nel mondo sta degenerando di nuovo e quindi Dorna ha dovuto ulteriormente cambiare i programmi Thailand e Malesia questa era la particolarità sono due gare back to back quindi cercavano appunto di suddividersi i costi per l'alloggio dei piloti ma venendo meno Burinam vedremo se verrà meno anche il GP della Malesia perché i costi sono ulteriormente ovviamente alzati sono due gare vicine da questo punto di vista e quindi molti ipotizzano che Burinam la sua cancellazione potrebbe inficiare anche il GP della Malesia quindi per ora è stato confermato l'appuntamento a Sepang però vedremo perché è veramente a rischio non si sa ancora se Burinam verrà cancellato definitivamente dal calendario quindi ci sarà una gara in meno ma oppure verrà sostituita da un altro appuntamento come è stato nella nella precedente cancellazione del calendario una modifica del calendario abbiamo avuto per esempio Portimao una gara aggiuntiva vedremo se magari qualche GP già in calendario verrà appunto sfruttato per magari un doppio appuntamento su quel circuito quindi aspettiamoci comunque novità molto molto a breve per quanto riguarda il calendario noi saremo sempre qui a parlarne e a commentare insieme ma sicuramente non fa bene anche per la mentalità comunque dei piloti avere a che fare con tutte queste modifiche nel calendario sicuramente per chi insegue è stressante vedere sempre una cancellazione di un gran premio o qualche modifica qua e là stiamo parlando comunque di appuntamenti a fine calendario e quindi potrebbero essere quegli appuntamenti questi appuntamenti a decidere questa corsa al mondiale la terza notizia è che secondo me è molto interessante ripeto è la più interessante delle tre e potrebbe aprire diversi scenari sul mercato è la situazione Gareth Gerloff Gareth Gerloff ha una situazione particolare perché ha rinnovato con Yamaha non si sa ancora se avrà una Yamaha ufficiale una Yamaha non ufficiale in Superbike quindi una R1 però ragazzi Gareth Gerloff è da depennare nella lista dei possibili piloti che andrebbero a sostituire Maverick Vignales oppure Valentino Russi comunque siamo sempre lì la line up della Yamaha Petronas dovrà comunque quasi essere rifondata da zero sicuramente una gestione molto importante per Gareth Gerloff che lui ha deciso di non fare questo salto in MotoGP poteva essere una bella scommessa per la prossima stagione ma Yamaha ha deciso appunto di tenerlo lì e le dichiarazioni di Andrea Dosoli che sarebbe il road racing manager della Yamaha in Superbike vanno appunto sulla crescita costante del pilota e dell'affermazione fra i grandi della Superbike quindi c'è un progetto da parte di Yamaha su Gareth Gerloff per cercare di farlo diventare uno dei più forti in Superbike le dichiarazioni nello specifico sono lotterà la prossima stagione per il mondiale siamo molto felici di questo accordo e di questo accordo sicuramente Gerloff sarà uno dei nomi a tenere di più in considerazione quindi grande stima di Yamaha verso questo pilota statunitense Gareth Gerloff ripeto era nella rosa dei piloti per Yamaha la prossima stagione adesso si aprono dei scenari molto molto interessanti perché quasi sicuramente avremo a che fare con la sostituzione di Valentino Rossi Vignales è già andato via cose che abbiamo già detto ragazzi nei video precedenti Yamaha deve assolutamente assumere due piloti per la prossima stagione almeno due piloti uno di questi ancora continua a essere molto probabile la sua chiamata è Andrea Dovizioso che ha rifiutato il progetto Aprilia per la stagione 2022 vedremo se accetterà quello della Yamaha ma secondo me è nell'aria comunque che lui se qualora fosse chiamato accetterà sicuramente la chiamata della Yamaha e quindi vedremo perché uno dei due posti potrebbe essere occupato proprio da Andrea Dovizioso un pilota di esperienza come lo è stato Valentino Rossi sicuramente la moto che andrà a prendere Andrea Dovizioso sarà quella non ufficiale quindi la Yamaha Petronas perché appunto ci sarebbe la promozione di Franco Morbidelli e anche su questo dobbiamo parlare i due nomi che sono stati immediatamente candidati dalle testate giornalistiche appena c'è stata l'ufficialità di Gareth Gerloff in Superbike sono appunto Xabi Bierge un pilota della Moto2 24 anni è un giovane della Cantera della Yamaha ma è un pilota che quest'anno sta ottenendo pochissimi risultati soddisfacenti solamente 50 punti fino a questo momento della stagione con un terzo posto a Barcellona come miglior risultato della stagione e in carriera quindi stiamo parlando di un ragazzo che comunque non sembra pronto decisamente non sembra pronto per la chiamata in MotoGP è una soluzione low cost però il ragazzo non sembrerebbe pronto già adesso per approdare in MotoGP l'altro nome l'abbiamo già detto nei vari video precedenti è Raul Fernandez Raul Fernandez che è il pilota della KTM lui sì che in Moto2 sta scrivendo la storia insieme al compagno di squadra della KTM veramente abbiamo a che fare con un pilota interessantissimo e lui sì che sarebbe pronto per un approdo in MotoGP Raul Fernandez però dobbiamo vedere come si libererà dalla KTM per essere preso in considerazione da Yamaha un discorso che abbiamo già affrontato nei video precedenti Yamaha non vuole intaccare i rapporti con KTM se Raul Fernandez vorrà essere preso in considerazione dalla casa di Wata deve assolutamente svincolarsi dal contratto con la KTM stiamo parlando di una clausola di 500.000 euro che diciamo che non sembrerebbe una cifra tanto elevata però è comunque un ostacolo oneroso devi comunque andare a trattare per prendere questo ragazzo quindi fra i due sicuramente il meno papabile e il più difficile di andare a prendere è Raul Fernandez in tutto questo abbiamo ripeto il discorso di Andrea Dovizioso quindi abbiamo tre piloti che sembrerebbero essere questi i nomi per la Yamaha la prossima stagione perché ho detto attenzione su Franco Morbidelli perché in chiusura di questo video Franco Morbidelli sembrava scontata la sua promozione in chiama ufficiale a fianco di Maverick Vignales ebbene nelle ultime settimane questa candidatura di promozione di Franco Morbidelli è andato un pochettino scemando quindi si sta sgonfiando questa sicurezza di Morbidelli sicuro al 100% l'anno prossimo nella chiama ufficiale quindi stiamo parlando di una situazione anche da questo punto di vista molto molto complicata perché Franco Morbidelli non sarebbe non sarebbe diciamo disposto a rimanere un ulteriore anno in una moto non ufficiale e quindi qualora non ci fosse realmente questa promozione di Franco Morbidelli a fianco di Fabio Quartararo abbiamo a che fare con un problema molto importante in casa Yamaha perché non so se Franco Morbidelli accetterebbe verrebbe convinto da Yamaha a starsene lì buono buono nella moto non ufficiale quindi paradossalmente staremo parlando ulteriormente di un altro addio in casa Yamaha quindi sarebbe veramente clamoroso perché su quattro piloti l'unico certo sarebbe Fabio Quartararo e la situazione sembrerebbe essere proprio così l'unico pilota veramente certo di restare è Fabio Quartararo Franco Morbidelli ripeto settimane scorse era scontata da parte di tutti testate giornalistiche umori dentro al paddock tutti pensavano ad una promozione ormai certa di Franco Morbidelli ebbene stanno piovendo delle smentite su un accordo già ufficiale quindi non è detto che Franco Morbidelli sia il pilota della Yamaha ufficiale la prossima stagione quindi io credo che Morbidelli in caso di non promozione in Yamaha ufficiale credo che sarà difficile tenere lì buono Franco Morbidelli nella Yamaha Pedronas quindi nel caso parleremo veramente di un ulteriore addio e quindi di un ulteriore pilota da andare a trattare per prenderlo Franco Morbidelli salterà l'abbiamo parlato nel video precedente la prossima gara in Austria il doppio appuntamento in Austria verrà sostituito da Carl Clacciolo quindi due leoni della vecchia MotoGP Carl Claccio e Dani Pedrosa correranno il prossimo Gran Premio veramente molto molto interessante questa situazione ma ragazzi tocca a voi ditemi la vostra nei commenti ditemi cosa ne pensate di Dani Pedrosa della cancellazione di questo ulteriore appuntamento nel calendario e della situazione Gareth Jelloff con Valentino Rossi che dovrebbe decidere il suo futuro a brevissimo e ovviamente saremo qui a parlarne con un video apposito Valentino Rossi secondo i bookmakers dovrebbe nei prossimi giorni annunciare il suo addio alla MotoGP quindi ritiro a fine anno queste sono le sensazioni vedremo se saranno ufficializzate ragazzi mettete like se questo video vi è piaciuto iscrivetevi a questo canale se non volete perdere nessun aggiornamento sui miei video futuri ragazzi vi saluto ciao a tutti da domenica versa ciao a tutti raga ciao a tutti